E' ufficialmente iniziata l'edizione 2023-2024 di Nuvolose il Festival del Fumetto con l'apertura del concorso artistico nazionale rivolto ai giovani tra i 16 e i 35 anni che prevede premi in denaro per i vincitori e la pubblicazione di un catalogo con 10 opere selezionate. Per partecipare sarà necessario realizzare una storia a fumetti di tre tavole legata al tema del concorso che quest'anno è Natura Controcorrente, in senso inverso Natura, Cultura, Biodiversità. Parallelamente al concorso ci sarà il concorso locale riservato ai ragazzi del liceo artistico Quintino Sella di Biella e della sezione staccata dello stesso presso la casa circondariale di Biella destinato per i vincitori un budget di 900 euro per l'acquisto di tavolette grafiche e materiale didattico. Resta invece a tema libero la sezione dedicata alla sceneggiatura che premierà la migliore storia inedita il cui testo verrà realizzato in un fumetto da disegnatore professionista e inserito nel catalogo della prossima edizione del concorso. La scadenza per partecipare è il 12 gennaio del 2024. La scadenza per partecipare è la scadenza per l'acquisto della scadenza per l'acquisto della scadenza. Grazie a tutti!